Appartamento in vendita in piazza Galileo Ferraris, l'appartamento lo vedete molto in disordine, verrà completamente liberato e pulito, è un appartamento comunque in vendita, qui abbiamo un bel parquet, abbiamo una zona giorno composta da questo soggiorno, o salotto che dir si voglia, qui siamo proprio verso la piazza, quindi defilato, silenzioso, rimane praticamente dietro la piazza, ma fa sempre parte di piazza Galileo come circo, quindi lì abbiamo l'ingressivo, il soggiorno e qui cucinino, vedete il disordine ma ripeto, stanno praticamente togliendo tutto, quindi qui angolo cottura o cucinino che dir si voglia e qui sempre l'esposizione verso la piazza, si può anche estendere su questo lato, qui rientriamo a un corridoio d'ingresso, frontale abbiamo il bagno che è in ordine, con il suo box doccia, bagno molto carino e poi una grande camera matrimoniale che è stivata di roba però, ripeto, una grande camera matrimoniale, sposto sul lato, quindi particolarità di questa casa qua, c'è l'ascensore, molto sole ed è silenziosa, perché vediamo anche la faccia di qua verso la scuola, è sollegeattissimo, quindi veramente un bel alloggino, quindi comodo, ha mezzi, negozi ed è silenzioso, ripercorriamo appunto la camera, rivediamo il corridoio, il suo bagnetto, ritorniamo in ingresso e diciamo che l'immobile è terminato, potete vedere la planimetria e altre foto, abbiamo le chiavi, quindi non sono problemi per vederlo, arrivederci. Grazie a tutti.